Questa mattina noi vogliamo partire con un ospite d'eccezione perché è collegato con noi, Don Marco Frisina, tramite Whatsapp. A Don Marco, mentre diamo il buongiorno e il grazie per essere qui con noi, buongiorno Don Marco. Buongiorno a voi. Vogliamo brevemente parlare di questo concerto che è giunto alla sua 39esima edizione, che si terrà domani nella Basilica di San Giovanni in Laterano, 17 dicembre, tra l'altro una data importante perché festeggeremo il compleanno di Papa Francesco. E allora, Don Marco, partiamo proprio dall'evento in sé. Come sarà composto, potremmo dire così? È tradizione ormai, appunto, 39 anni sono tanti. Ero un giovane prete quando feci il primo ed è il fatto di canti di Natale, di momenti di riflessione e di musica. Perché, come sempre, io faccio delle didascalie, brevi didascalie, diciamo, catechetiche, prima dei canti e poi si esegue il canto. Ci sarà il coro della Diocesi di Roma, saranno più di 180 ragazzi, poi c'è l'orchestra, Fidelis e Tamati. Si alterneranno gli stessi solisti del coro ad animare insieme al coro i diversi momenti. E sarà, come sempre, affollatissima la Basilica di San Giovanni in Laterano, proprio perché è entrato ormai nel cuore. E come sempre, come ogni edizione, dalla prima fino ad oggi, l'ingresso sarà libero e gratuito e quest'anno il concerto è dedicato alla Papale Basilica Lateranense nel compimento di un anniversario molto particolare, i 1700 anni dalla sua fondazione. Ma, come diceva il collega Leofania, domenica 17 è anche il compleanno del Papa, per cui le chiedo se ci sarà una dedica particolare. Allora, noi ieri abbiamo fatto il concerto con i poveri in Vaticano e abbiamo avuto l'udienza del Papa al mattino. Sono giorni, appunto, di eventi sempre importanti. Il Papa ci ha sottolineato l'importanza, che è sempre quella, l'importanza di condividere la gioia del Natale e di essere sempre capaci di armonizzare, di mettere insieme. Quindi la dedica al Papa è proprio perché lui continui anche ad insegnarci questo, ad armonizzare, che è una parola musicale, ma che oggi significa sinodo, significa camminare insieme. Ed è in questo senso poi la sua cattedrale, quindi la dedica è automatica, perché siamo lì dove lui, essendo Vescovo di Roma, presiede la sua diocese. Don Marco, il Papa ha detto che è più facile fare armonia con le note che con le persone, ieri, ecco, ricevendovi in udienza. Immagino che lo spirito del Natale sia proprio questo, tra l'altro poi auspicando e pregando per la pace in maniera molto molto più alta. Certo, ma la pace inizia dal cuore degli uomini, non è fatta di trattati. Come ci ha detto Gesù stesso, io vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Perché la pace, finché gli uomini non riescono a ritrovarsi, a ritrovare se stessi, a ritrovare Dio, a scoprire qual è la loro vera dignità, la pace non ci sarà mai. Ci saranno sempre discordie, dissidi, invidie. Molto, molto bene. Noi sappiamo che sono ore molto intense per il lavoro che avete svolto ieri e che state preparando per stasera, per cui non vogliamo rubarvi molto altro tempo. Vi ringraziamo veramente di cuore per essere stato con noi da tanti anni. Leggiamo il vostro nome su componimenti, canzoni, e quindi per noi è davvero un onore e un piacere aver potuto scambiare due chiacchiere con lei stamattina. Grazie a voi. Io scappo davvero perché sto andando alle prove e quindi dobbiamo prepararci. Allora, arrivederci. Grazie. Buon Natale a tutti. Grazie, grazie a Don Marco Frisina. Un saluto e un abbraccio a tutta la diocesi di Roma che davvero ci è tanto cara e ci è tanto vicina, Toni. Poi questi eventi, anche ieri Papa Francesco lo ha detto, servono anche per cementificare quella che deve essere l'armonia tra le persone e la musica. Penso, poi tu sei un esperto da questo punto di vista, penso sia il mezzo più adeguato e più idoneo per questo auspicio. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Ringraziamo ancora una volta Monsignor Marco Frisina anche per gli auguri che ci ha fatto in chiusura e che stendiamo a tutti i nostri amici, a tutte le nostre amiche che ci seguono anche oggi da casa. Bene, dopo questo inizio scoppiettante, è il momento di fermarci solo per qualche istante, ma ritorniamo subito insieme perché come anticipato abbiamo tante cose belle da condividere con voi oggi.